Elena Fontanensi è biologa marina di Costa Valene di questa cooperativa che si occupa del waywatching, di andare a cercare i cetacei, i vicini al nostro mare, per fortuna ce ne sono anche tanti, e di fare anche un progetto importante del quale sei appunto responsabile. Un progetto che viene presentato qui alla Strescino SRL, come mai, perché? Allora, diciamo che il nostro progetto è nato come appunto idea dei biologi della cooperativa e ovviamente come qualsiasi progetto di ricerca abbiamo avuto difficoltà ad iniziare a livello anche economico e abbiamo iniziato il progetto grazie a una campagna crowdfunding e grazie allo scorso anno a contributi anche di alcuni comuni e di alcune organizzazioni private. E quest'anno però, diciamo, Strescino si è avvicinato a noi perché condivide con noi sicuramente molti obiettivi tra i quali il discorso di diminuire l'uso della plastica e aumentare l'uso di altre risorse, altri materiali come il vetro che sono sicuramente più ecosostenibili. Giustamente la Strescino vende contenitori in vetro che sono sicuramente naturalmente più sostenibili della plastica che tra l'altro danneggia il nostro mare. Sì, assolutamente. E quindi credendo comunque nel nostro progetto, nel progetto che stiamo portando avanti, che punta proprio al conoscere questi tursiopi, quindi i delfini costieri che abitano vicino a noi e che sono ovviamente impattati notevolmente dalle attività umane e quindi dalla presenza di plastica, da magari alcune attività di pesca, eccetera. Abbiamo trovato il modo di collaborare assieme ed è grazie comunque anche al suo contributo che noi possiamo mandare avanti questa seconda stagione del progetto. Un progetto, adesso andremo anche a conoscerli, che porta in peria anche ragazzi che arrivano da tutta Italia, persino dall'estero. Sì, esatto. E' una cosa su cui puntiamo molto, grazie a questo progetto, è far conoscere il ponente Ligure e il santuario Pelagos sia agli italiani, perché spesso non si sa che nelle nostre acque ci sono dai tursiopi alle balene ottere comuni, ma anche e soprattutto far conoscere questa zona all'estero. Abbiamo avuto l'anno scorso studenti che arrivavano dagli Stati Uniti, dalla Corea del Sud e da diversi stati europei, quali Francia, Svizzera. Adesso abbiamo una ragazza svedese e una belga e comunque è sempre una grande soddisfazione vedere quanto anche questi stranieri ammirino e apprezzino le meraviglie che abbiamo nella nostra zona, nel ponente Ligure.